Ma perché stasera guardi la tv? Di solito non la guardi. Dopo c'è Conte in diretta e dice come siamo messi a Natale. E sai che me ne frega a me del Natale. Tutti i miei parenti sono morti per il Covid. Eccolo, eccolo, arriva. Cari italiane, cari italiani, buonasera. E mi sa che quest'anno a Natale ve la prendete un po' tutti nel culo.